Buongiorno a tutti, sono felice di riuscire a ritrovare il tempo per fare un video. Bene, sono contento. Ci tenevo oltretutto a parlarvi io di Banca IFIS, la peggiore NPL che poteva arrivare in Italia. Banca IFIS dietro cui c'è una famiglia italiana, la proprietà italiana, una famiglia molto importante che ha fatto girare i soldi dal Belgio per poi farli arrivare in Italia e comprarsi questa Banca IFIS e aggredire le famiglie italiane. Ma il video non ha questa logica, il video ha la logica di spiegare come funziona la procedura ma soprattutto come fermare Banca IFIS. Cerchiamo di capire cosa fanno loro. Loro comprano i crediti, i crediti che risultano non pagati, anche il vostro forse che avete fatto con un'altra banca, loro la comprano e vi chiedono tutto il capitale, tutti gli interessi, più altri interessi di mora, più le spese legali e lo fanno attraverso un provvedimento che si chiama decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo viene messo da un giudice ma non è che il giudice vi chiama e vi chiede il permesso di farvi un decreto ingiuntivo, al giudice vengono consegnati dei documenti, il giudice senza contraddittorio dice vabbè se mi avete dato i documenti che attestano che c'è un credito io emetto questo provvedimento, questo decreto ingiuntivo nei confronti della famiglia tal dei tali, più o meno esecutivo. A voi arriva la cartolina verde e la cartolina verde è un segnale, è un timer di 40 giorni, non un minuto di più. Sappiate che se non rispettate questo tempo, che è il tempo che il giudice ha concesso alle famiglie, a voi per difendervi, avete perso, ma non avete perso perché non dovevate questo denaro o dovevate questo denaro, avete perso perché avete perso il diritto di dire la vostra, perché noi di cose ne abbiamo tante da dire a Banca IFIS. Innanzitutto in questi 40 giorni trovatevi un bravo avvocato, un bravo legale, ma non che sia di quelli importanti che fanno tutto. Dovete trovare la zecca Garbugli che conosce bene le procedure di Banca IFIS. Se non trovate un avvocato esperto in esdebitazione, chiamate l'associazione, l'associazione è una no profit, interviene in situazioni di disagio, di difficoltà, se non potete permettervi lo studio legale, ma non è tanto se non potete permettervi la parcella. Non rivolgetevi a un legale che non conosce le corrette procedure. Torniamo a noi. L'opposizione va presentata in 40 giorni, altrimenti possono, trascorsi i 40 giorni, procedere con il precetto, pignoramento e di lì inizia la catastrofe per la famiglia. In particolare Banca IFIS commette un errore. L'errore è che esiste un testo unico bancario. Il testo unico bancario è una legge, chiamiamola così, che regola i contratti bancari, soprattutto quelli relativi ai finanziamenti, e prevede, il testo unico bancario, l'obbligo di forma scritta dei contratti di finanziamento. Se non c'è la forma scritta il contratto è nullo. Ora, che cosa avrà mai consegnato Banca IFIS al giudice? L'originale? Una copia? Il testo unico bancario serve, anche se è scritto dai banchieri, dai burocrati, serve per tutelare il debitore, che è sempre in situazioni di difficoltà, perché la banca conserva tutto, è pagata per quello. Le famiglie spesso non hanno i documenti, sono passati 10 anni, saranno in qualche cassetto, saranno in spazzatura, non li troviamo più. Pertanto, che cosa deve fare il vostro avvocato? Deve proporre un'opposizione al decreto ingiuntivo contestando la mancanza degli originali dei contratti di finanziamento, negando perciò che le somme che vi hanno ingiunto di pagare siano dovute. Insomma, quella firma che loro hanno prodotto in fotocopia, non sono mica sicuro che sia la vostra, ma siccome non siamo sicuri, voi dovete veramente richiedere se è veramente la mia firma, controlliamola, vediamo se c'è l'originale. Nel caso, sempre, ma non si può dire sempre, estremamente frequente, in cui non salta fuori il contratto, il giudice dovrà quindi accertare la carenza dei requisiti previsti per la concessione del decreto ingiuntivo e annullare o revocare l'ingiunzione di pagamento. Avete capito? Perché appena si fanno le giuste contestazioni Banca IFIS crolla su se stessa? Cercate di informare altre persone. Non permettete a questa NPL, che appartiene a un'importante famiglia italiana, di svuotare ancora le tasche e ridurre in povertà ancora di più il popolo italiano. Dimenticavo, condividete in rete, perché se tutti capiscono dove Banca IFIS è vulnerabile, non incassano più un centesimo e gli italiani vivranno un pochettino più sereni. Buona fortuna a tutti.